Lo sgabello è l'artigianalità, la qualità del lavoro, perizie anche dell'artigiano. Se va al negoziante qui di fianco potrebbe aiutare. Mi sono in cerca di riparare il sgabello. Mi dispiace ma anche noi non facciamo questo tipo di lavoro. No ma signora noi siamo in negozio di fumetti. Credo che avessi più avanti. Giulio, guarda che sono arrivato adesso. Cos'è successo? Si è rotto lo sgabello? Se scuola non lo so, non provare a mettere la posca. Io faccio il design normalmente però questa volta possiamo anche provare a ripararlo. Ci penso io, grazie. Va bene, ciao. Arrivederci Giulio. Ciao. Invece io ti ho portato lo sgabello che ho disegnato io ma che è stato realizzato in artigiano. Guarda un po' se ti piace, dimmi un po' cosa ne pensi. No no no, è bello e poi lo rende più sicuro che quello che le quattro gambe dritte come ho sempre visto un sgabello ecco. Cosa dici? Ci beviamo un caffè? Una bella idea, benissimo sì. Questo te lo lascio eh. Ma per sempre? Perché no? Ah, bene, grazie. Ciao. 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 Ciao.